Quella di oggi è una giornata storica per Francavilla, Sindaco Luciani, Palazzo Sirena torna a nuova vita e con un nuovo e rinnovato auditorium. Eh sì, è proprio una giornata storica, il termine è corretto, non dobbiamo aver paura di usarlo. Questa struttura ha avuto l'agibilità a distanza di 27 anni dalla sua costruzione. Noi italiani ce la prendiamo comoda, però oggi finalmente ci troviamo dentro il Palazzo Sirena rinnovato, perfettamente agibile con tutte le sue certificazioni. Questa sera lo inaugureremo nel migliore dei modi, con presenze importanti e soprattutto con tanti cittadini francavillesi che sono curiosi di vedere questa nuova struttura. Nuova struttura che si apre alla città, il Palazzo Sirena, ancora di più diventa il simbolo di Francavilla al mare. È il simbolo di Francavilla al mare, lo è sempre stato, lo sarà per sempre e inoltre questa struttura sarà in grado di rilanciare l'economia cittadina perché come ho spiegato in più occasioni questi sono 270 posti che verranno riempiti per almeno 100 volte l'anno quindi significa portare 27.000 persone al centro della città, significa economia per i bar, per i negozi, per tutto il settore del commercio e del turismo. Una giornata questa importante che anticiperà probabilmente di qualche mese un'altra giornata da ricordare, quella che vedrà la nascita della nuova piazza di Piazza Le Sirena. Sì, ora c'è ancora tanto da fare, c'è il portale da riprogettare con gli architetti Ricci, Conti e Moccia che hanno ottenuto il riconoscimento di questa struttura come struttura di elevato valore architettonico e artistico da parte del Ministero dei Beni Culturali, quindi un portale da rifare ma soprattutto una piazza da rivedere completamente, una piazza che termina con il suo pontile a mare, quindi tutto un centro cittadino che andrà ristrutturato e rivalorizzato.